Beh, ragazzi, che cosa dire, ci vorrebbero un po' più spesso serate come questa, serate in cui il risultato è così rotondo, così ben definito, così sicuro, 3-0, secco, e magari potessero essere sempre così le partite della Juventus. Prima di cominciare OneFootball, qui sotto in descrizione il link per scaricarlo gratuitamente su vostri cellulari, dato che arriva il derby di Torino, dobbiamo essere abbastanza orientati, abbastanza attenti per capire come potremo andare eventualmente a continuare questa ondata di risultati positivi che si spera possa essere ricominciata stasera in maniera definitiva. Se avete un mi piace a questo video, se siete stati soddisfatti della partita della Juventus, personalmente sì, sono stato soddisfatto, anche perché era un po' quello che mi aspettavo e che abbiamo detto un po' in questi giorni, se non per il punto di vista tattico, almeno per il punto di vista dell'atteggiamento e di come abbiamo approcciato la partita. Cioè una partita che sulla carta aveva ben poca valenza, perché poi dovremo andare a confrontarci col Barcellone, poi lì si apriranno tutti i discorsi di qualificazione di primo o secondo posto, bla bla bla. Sappiamo bene che arrivare primo o secondo negli ultimi anni cambia poco, dato che sarà tutta una questione di fortuna nei sorteggi, ma lasciamo stare. Non è questo il discorso che voglio affrontare in questo momento, però affrontare una partita con la testa libera, perché non devi andare per forza di cosa a fare risultato, ti porta anche a queste cose qua. Poi, se devo dire la verità, questa sera ragazzi abbiamo assistito a una partita incredibile, assurda, bellissima, fantastica, giocata da Federico Chiesa, che nei primi 20 minuti prima del gol era stato in assoluto il migliore in campo. Poi fa gol, quindi si merita ancora di più il migliore in campo, e poi fa anche due assist, il primo Ronaldo, il secondo a Morata per il 2 e per il 3 a 0, quindi a tutti gli effetti Chiesa è un migliore in campo che entra di diritto nella storia del calcio mondiale. Chiesa verrà ricordato per sempre all'interno della storia del calcio mondiale, perché questa sera era la prima partita in cui il direttore di gara era una donna, quindi prima partita di Champions League arbitrata da una donna, e primo marcatore di sempre nella partita di Champions League arbitrata da una donna, Federico Chiesa. Migliore in campo, gol e due assist. No, davvero, a parte gli scherzi. 3-4-1-2, che diventava il solito 4-4-2 in fase difensiva. Ancora una volta ha penalizzato Ramsey, probabilmente di questo parleremo nelle pagelle domani. Anche De Miral non mi ha fatto impazzire in realtà come esterno di destra, però si è esaltato tanto Chiesa, ha fatto una buona partita anche a Alexandro. Ronaldo e Morata avevano iniziato abbastanza male, nel senso che non si trovavano, c'erano tanti piccoli errorini, e poi sono riusciti a portare a casa tutti e due un gol, un gol a testa, quindi si confermano assolutamente in partita. I cambi, ancora una volta, Kulusevski l'abbiamo visto un po' arrancare, l'abbiamo visto un po' arrugginito, faceva ancora fatica, mannaggia, voglio capire che cosa sta succedendo. Non è entrato Di Bala, ma voglio sottolinearlo subito, non c'è un caso Di Bala. Pirlo stesso ce l'aveva fatto capire, Di Bala lo terremo a riposo per il derby, perché avrà bisogno di concentrarsi per il derby. Conferenza stampa di ieri, ha detto proprio testuali le parole, è ora che inizi già a pensare al derby, poi non è nemmeno entrato quadrado per dire. Un'altra nota positiva è l'esordio di Dragosin, quindi sono contento, o di come l'abbiamo chiamato in live, per chi rappresenta la live su Twitch, Dragosin, perché devi vibrare questo R, se no non è lui. Quindi direi convincente, questa Juventus è onesta, di fronte anche a un avversario che va sottolineato, non ha fatto chissà quale partita, ecco, non è un avversario di assoluto livello. Abbiamo avuto ancora dei momenti della partita in cui sembravamo fare fatica alcune cose, il primo tempo, se posso permettermi di sottolineare questa cosa, ancora una volta andiamo magari in vantaggio e poi si fa fatica. Ci spegniamo un attimino, sembra quasi che aspettiamo gli altri che ci dicano volete fare qualcosa? Non so, questa forse è una caratteristica della Juve di quest'anno, a questo punto. Almeno non abbiamo fatto un secondo tempo atroce, come abbiamo già visto tante volte quest'anno. Quindi magari quando ci sono delle partite in cui il risultato non è così importante come questa, la Juve riesce anche un po' a buttare fuori le cose che possono appesantirti la testa e le gambe sono anche un pelo più libere. Mi è piaciuto anche l'ingresso di Bernardeschi, credo che nelle ultime partite Bernardeschi non stia giocando particolarmente male. Avevamo tre difensori centrali puri questa sera, ma non si è quasi mai vista la difesa a tre solita, perché il mio concetto di difesa a tre è se hai tre difensori centrali che poi quando difendi vengano a fare la difesa a cinque i due esterni. Questa sera invece ancora una volta si scalava, tranne Chiesa che oltre alla super partita che ha fatto, anche in fase difensiva era un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a chiudere, un po' a terzino. Quindi veramente potesse giocarle tutte così Chiesa sarebbe tanta 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 roba. Coincidenza che Chiesa ha fatto un partito nel genere in mancanza di quadrado, che è un po' il giocatore doppione, dato che fa quasi le stesse cose quadrado su quella fascia e quindi non poteva essere libero. E quindi a sinistra è più difficile per Chiesa perché quando arriva non può mettere il cross con il destro, che è il suo piede naturale, ma deve o rientrare o metterlo di sinistro, che ovviamente è il suo piede debole. Secondo me no, sarebbe interessante capire come inserirli tutti insieme. e ancora una volta secondo me si torna all'interno del 4-3-3 con un quadrado terzino e Chiesa attaccante, ma questi sono discorsi che vanno al di là di questa partita. Io questa sera mi sono divertito, è stata una partita divertente, è stata una partita onesta, una partita sulla quale sicuramente non vado a farmi dei viaggi, non vado a volare di fantasia pensando che la Juve sia magicamente guarita da tutti i problemi, no, non è così, ma ci sono state tante cose interessanti. Direi che questa sera, commento abbastanza breve, non c'era così tanto da dire secondo me a caldo. Ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, abbiamo visto una buona Juve, abbiamo vinto 3-0, hanno segnato i due attaccanti più, il giocatore più influente all'interno della partita di questa sera che appunto è stato Federico Chiesa. Io voglio sapere qui sotto nei commenti anche le vostre opinioni. Vado a letto che sono un po' stanco, ci vediamo domani con le pagelle. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.